Essere Amleto, un lavoro scritto, diretto e interpretato da Simone Luciani. Nuovo Sala Gasman, un appuntamento importante, un appuntamento da non perdere, due serate. Bene, ne parliamo proprio con Simone Luciani. Allora, di che cosa si tratta? Allora, è un adattamento dell'Amleto di Shakespeare, trasportato ai giorni nostri. Io trovo che Shakespeare abbia una grande attualità e per questo abbiamo voluto fare, insieme al mio cast, insieme a Patrizio che è il mio aiutoregista, abbiamo voluto trasportare questa bellissima storia di passione, di vendetta, di tragedia in chiave moderna. È una specie di thriller, se vogliamo. Infatti, credo che possa interessare sia gli amanti di Shakespeare, sia i più giovani. È un modo anche per avvicinarli. Io penso che Shakespeare sia la palestra dell'attore, quindi è giusto che tutti la conoscano. Perché avete deciso di interpretare questo ruolo? Insomma, non facile. Allora, la decisione di interpretare questo ruolo è molto semplice. Intanto chi interpreti? Tu o solo aiutoregista? Allora, io interpreto Polonio, il papà di Ofelia. E la scelta del, diciamo, ho deciso di partecipare a questo cast, innanzitutto perché Simone è un amico, un bravo regista, un bravo riadattatore, e ti mette nelle condizioni di poter fare tua la parte. Ricordiamo qualche altro protagonista, intanto questo adattamento, insomma, il principe di Danimarca, trasportato ai giorni nostri, certamente non è facile. Assolutamente. Abbiamo un cast nutrito, abbiamo Marcello Duviziani che interpreta Re Claudio, il patrigno di Amleto, che poi è il fautore di tutta la vicenda, Maria Chiara Traberi che interpreta la regina Gertrude, la madre di Amleto, abbiamo Sara Gianvincenzi che interpreta una bellissima Ofelia, un'Ofelia così pura, poi da impazzire, abbiamo Silvia Ciuferri e Vanessa Molinas provenienti dai nostri corsi di recitazione che interpretano Gildesten e Rosencratze, che ho trasportato in donne. In realtà nell'Amleto sarebbero due uomini, però ho trovato che fossero più adatti in questa versione come due ragazze. Abbiamo Alessandro Tagliani che interpreta Orazio, l'amico fidato di Amleto, che poi è quello che racconterà le vicende post-mortem, poi chi altro abbiamo Massimiliano Puddu che interpreta la Erte, il fratello di Ofelia e il figlio di Polonio, e infine abbiamo Patrizio De Paulis che interpreta il consigliere di corte Polonio. Inoltre ho il bellissimo regalo di Ettore Falsetti che ha prestato la sua voce per lo spettro del padre di Amleto. Allora appuntamento, ricordiamolo velocemente ancora una volta. Allora, giovedì e venerdì al nuovo Sala Gasman alle ore 21. Vi aspetto a teatro.